Professore, un momento di confronto per ricordare la figura di Galasso, l'attualità del pensiero di questo storico meridionalista. Galasso è finito, come si sa, nel mese di febbraio, alla venerante età di 88 anni, ma era freschissimo mentalmente ed è stato di sicuro il maggiore storico del pensiero meridionalistico e del mezzogiorno, pre e post unitario. Galasso stesso è stato un personaggio attivo nel mondo politico e ha svolto una capillare minuziosa attività meridionalistica a vantaggio del mezzogiorno, di cui lui conosceva le coordinate di fondo della storia e anche dal punto di vista della geografia era un profondissimo conoscitore di tutto il mezzogiorno continentale. Lo era. Ho avuto modo qualche volta di compiere una passeggiata automobilistica con lui, mi illustrava tutte le possibili vestigie dall'antica Roma e forse anche prima fino all'età contemporanea. Un uomo eccezionale anche dal punto di vista umano, uno dei grandi storici italiani, ma direi europei sicuramente, autore di una monumentale, peraltro storia d'Europa in ben tre volumi e soprattutto autore di una storia del Regno di Napoli di ben sette volumi, ognuno dei quali di quasi mille pagine, per la storia d'Italia, da lui stesso diretto per i tipi della UTET. Oggi parlare di meridionalismo sembra anacronistico, è così oppure c'è una rinascita di questo filone di pensiera? E allora Galasso pubblicò una quindicina di anni fa un volume dal titolo significativo Mezzogiorno, il Mezzogiorno da questione a problema aperto. La doppia espressione, il doppio termine stava a significare il processo evolutivo del Mezzogiorno, della storia e del pensiero meridionalista. Per tutti gli anni 80 e 90 era caduto, come lui stesso dice, in un passaggio molto significativo di passato e presente del meridionalismo, era caduta in uggia la discussione intorno al Mezzogiorno e soprattutto intorno al pensiero meridionalistico. Galasso ricupera la dimensione storica del Mezzogiorno, lo definisce problema aperto e quando conclude il suo volume lo pubblica nel 2005, egli sottolinea l'attualità della problematica del Mezzogiorno, del dualismo meridionale e quindi appunto un problema aperto, semmai non più questione meridionale. Spesso oggi il meridionalismo viene declinato con autonomismo e indipendentismo. Alcuni di questi filoni di pensiero sono anche nostalgici dell'epoca preunitaria. Galasso ha posto molto ben in evidenza come i rigurgiti neobarbonici fossero fuori luogo. Perché? Perché Galasso in volumi veramente ponderosi ha snocciolato tutte le problematiche relative alla storia del Mezzogiorno. Ha messo molto ben in evidenza che la dinastia borbonica era orientata verso la conservazione di un apparato sociale ed economico di stampo agricolo, direi quasi paternalistico, non aveva propensioni e spinte verso una trasformazione effettiva in senso industriale del paese nonostante i cosiddetti primati ai quali si attengono i nostalgici borbonici. La visione era una visione di un paese arretrato. In realtà lo scarto tra la dinastia savoiarda e quella borbonica va individuata proprio nella concessione della carta costituzionale. Concessione che come noi sappiamo Ferdinando II compie e fa ma che poi a breve distanza si rimangia per dire così, così come aveva fatto il nonno, vale a dire Ferdinando IV o Ferdinando I.